Tutto è nato da un normale controllo presso l'abitazione di un pluri pregiudicato di 38 anni detenuto domiciliare da parte dei carabinieri di Trani. L'uomo, nato a Roma, da sempre risiede in un appartamento del centro di Bisceglie dove stava scontando la pena detentiva. I militari, dopo aver suonato più volte al citofono, si sono insospettiti della mancata presenza del 38enne in casa. Dopo essere riusciti a raggiungere la porta della casa del detenuto, hanno notato che la stessa era leggermente aperta e che vi era del movimento all'interno. Una volta entrati i carabinieri hanno quindi notato l'uomo che cercava di chiudere frettolosamente la tenda del ripossiglio. Per tale ragione, per l'evidente nervosismo mostrato, i militari hanno deciso di vederci chiaro ed operare un'accurata perquisizione dell'appartamento. Come sospettato, dentro il ripossiglio vi era un borsone occultato dietro una grossa bombola di gas al cui interno veniva rinvenuto un vero e proprio emporio di droga nonché una pistola beretta con matricola brasa e ben 17 proiettili utili per eventuali azioni di fuoco. Sequestrati pertanto 1.482 grammi di hashish, 62 di cocaina suddivisa in dosi e 185 grammi di marijuana, il tutto corredato di copioso materiale per il confezionamento. L'arrestato è stato quindi tradotto presso il carcere di Trani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso dottore alle indagini al fine di identificare eventuali complici e fornitori della sostanza stupefacente. Accertamenti di laboratorio verranno invece effettuati sulla pistola dalla sezione Investigazione Scientifica Carabinieri di Bari allo scopo di verificare se l'arma sia stata usata in qualche fatto di sangue del passato.